Il segreto meglio custodito d'Europa, così un viaggiatore straniero ribattezzò quest'opera d'arte della natura, Vallicupe. A vantare questi straordinari monumenti geologici, il comune di Sersale è in Calabria. Amo molto questo posto perché ci si ripara dal caldo e la natura è monumentale, dice questo turista austriaco. Semplicemente stasiante, guardate voi, quanto è bello. Un museo a cielo aperto, golle, imponenti monoliti immersi nella foresta mediterranea e per conformazione unico in Italia il canyon. Pareti tortuose alte fino a 130 metri d'altezza, aderiscono l'una all'altra oscurando il cielo. In questo habitat vivono rare specie animali e vegetali. Questo è il frassino da manna, Fraxnus hornus, ed è la pianta dalla quale si estraeva la manna, che è lo zucchero dell'antica Calabria. Ecco il gigante Buono, un castagno che con un diametro di 10 metri e 500 anni di età è anche detto l'albero del pane. Con la sua farina sfamava quando ancora non c'era il grano. La bellezza di questo posto è anche l'energia che dà. Un suo fascino che bisogna esserci dentro per capirlo, veramente. Avevo sentito parlare, però sinceramente vedendole è tutta un'altra cosa. Lontani dalla civiltà in queste valli, trionfano solo i rumori della natura, il fragore di oltre 100 cascate, ad esempio.